Costa Verrera, oggi avete reagito dopo il vantaggio del notaresco, poi però nel secondo tempo non siete riusciti a concretizzare e soprattutto a giocare come siete abituati? Sì, diciamo che l'abbiamo approcciato male, soprattutto il primo tempo, perché i primi 20-25 minuti non siamo mai riusciti a essere pericolosi, mai incisivi. Sì, arrivavamo sempre secondo sulle seconde palle, lasciavamo troppo campo agli avversari per le ripartenze, quindi poi alla fine questo è il risultato che rispecchia l'andamento della partita. Ecco, ora l'importante è ripartire, cancellando questa gara, ripartendo da quanto di buono fatto nelle scorse gare? Sì, assolutamente, perché ogni tanto sbatterci il muso va bene, perché comunque ci deve tenere vivi, perché insomma questa squadra è da primi posti, oggi non l'abbiamo dimostrato, però ecco, da domenica dimostreremo che questa sconfitta ci è servita da lezione. Nelle prime gare sei stato infortunato, ora ti senti al 100%? Sì, assolutamente, ho avuto un problema con la polpaccio, ora giocando sto prendendo la condizione e spero di essere più incisivo di quello che sono stato fino adesso. Vuoi aiutare il Davezzano ad andare in Serie C? Sì, adesso non voglio dire altre parole, sicuramente voglio aiutare, voglio far bene così come i miei compagni, però adesso non mi va di fare dei proclami, delle promesse, l'importante è che dobbiamo restare tutti sul pezzo e non fare le prestazioni che abbiamo fatto oggi.